Bitonto Molfetta è come quella formula matematica secondo cui cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia perché dopo quello di Coppa Puglia vinto quasi un mese fa 3 a 0 le loncelle si ripetono e fanno il bis vincendo anche quello di campionato. La Polisportiva ringrazia questa volta la doppietta di una inarrestabile e irresistibile Carmela Anaclerio nel primo tempo e la punizione del capitano Flora La Rossa nel secondo e porta a casa davanti un pubblico festante festeggiante e sempre incoraggiante le loncelle la decima vittoria consecutiva restando a punteggio pieno a quota 30 insieme al New Cup San Michele che però ha una partita in più in quella che obiettivamente non è stata una partita bellissima ma emozionante vibrante pena di colpi di scena e di scontri duri e pesanti soprattutto nel secondo tempo vedasi l'espulsione forse ingiusta della leoncella papà picco il Bitonto ha meritato di vincere perché ha saputo essere più forte e più cinico delle avversarie nei momenti chiave della contesa uno su tutti segnare dopo il primo giro di orologio al Polo Borsellino dunque è finita 3 a 1 e non poteva esserci esordio casalingo migliore per il tandem Verriello Danisi e domenica nella tappa numero 12 di campionato si va in trasferta a Martina ultima in classifica grazie a tutti